La rinazione a Cortona, in provincia di Arezzo, in piena notte bloccano la strada principale del centro storico, nelle due direzioni, da un lato con un bancale di legno incendiato e dall'altro con transenne, e poi armati di mazze e piede di porco si scagliano sulla porta di una gioielleria, insomma un vero e proprio assalto da film. È successo nella notte tra domenica e lunedì attorno alle 4. Io ero nel dormiveglia anche perché era scattato l'allarme, quindi mi sono alzata e ho guardato dove erano e me li sono ritrovati proprio sotto casa e erano tutti con incappucciati di nero, uno aveva il piccone, l'altro la mazza, cioè piccone e mazza, era alto, magro e ho visto che erano oggetti nuovi di zecca, proprio li ho visti bene perché ce l'avevo sotto. Dopo aver sfondato la vetrina i banditi in una manciata di minuti hanno fatto razzia di preziosi, si sono poi dati alla fuga con un bottino di circa 120.000 euro, i malviventi sono scappati da un vicolo del centro per poi raggiungere probabilmente un'automobile pronta ad attenderli fuori dalle mura. A bloccare i banditi non è bastato né l'allarme scattato al loro ingresso né il dispositivo nebbiogeno che ha creato una fitta foschia all'interno del locale. Molto rumore perché abito proprio quasi sopra la gioielleria e ho visto molto fumo quando mi sono affacciato, ho visto questa grande nuvola che usciva dal negozio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Cortona che stanno passando al setaccio le immagini sia delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria che le telecamere cittadine.